Salve a tutti i friends dal vostro supercorris, eccoci qua ragazzi, buona domenica, si torna con la nostra puntata di formula 1 news extra, che sapete di solito esce quando la domenica non ci sono i gran premi Parliamo appunto delle notizie più attinenti col momento, come al solito prima di partire a bomba col video vi dico iscrivetevi a tutti i miei canali, se volete lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale telegram ufficiale supercorris 84 per averle news in anteprima E partecipare ai sondaggi sul mio canale, su cosa vedere, cosa fare, la vostra opinione, c'è fino a dopo pranzo la possibilità di scrivermi delle domande nella sezione domande di instagram Se volete la trovate là, su qualsiasi argomento anche non attinente alla formula 1, questa sera live sul canale Viola dalle 21.30 ci sarà la seconda gara della Summer Cup a Austin Con la nostra Lamborghini e con Formula Racing Italia C'è la mia raccolta fondi supercorris and friends, vi ringrazio perché un po' si è ripresa la raccolta fondi, dai, cerchiamo di arrivare a una cifra congrua, siamo solo a 150 euro ragazzi Probabilmente salteremo questo fine mese, cercheremo di raccogliere una cifra più grossa e la doneremo a fine luglio a sto punto in modo da fare una bella donazione Comunque il posto di ringraziamento per chi ha donato a luglio uscirà lo stesso Quindi partiamo con le news di questa domenica Ferrari, Filming Day a Fiorano in vista dell'Austria, non l'aveva fatto già il Filming Day, boh, par di no Quindi i due piloti titolari, Leclerc e Sainz, si alterneranno alla guida della Ferrari per i 100 km concessi con le gomme demo sulla pista del Cavallino Per fare le riprese commerciali, la scuderia avrà modo di valutare il nuovo fondo che verrà portato in Austria Maranello preparato all'Austria per andare all'attacco Quindi vedete che Ferrari se le inventa tutte La Ferrari ha programmato un Filming Day a Fiorano per martedì come anticipato da Formula 1 Sarà l'occasione per effettuare i test e i 100 km concessi al Filming Day Con gomme chiaramente demo per preparare la vettura in Austria I dati di simulazione per il Red Bull Ring hanno contribuito a caricare l'ambiente della gestione sportiva Perché i numeri direbbero che l'SF23 potrebbe proseguire il ciclo positivo iniziato a Montreal Ma non è la prima volta che abbiamo sentito parlare di grandi aspettativi Infatti ragazzi non sono per niente così convinto Comunque E allora secondo il Filming Day Allora il secondo Filming Day arriva a Faggiuolo Ecco vedi che già l'avevano fatto, non ho capito Ma ci stanno due Filming Day Prima ce ne stava una stagione Per avere un primo approccio dei dati fra la nuova configurazione aerodinamica e la pista Il test a Barcellona per lo sviluppo delle Pirelli 24 Ha offerto ai tecnici dei dati comunque Ma anche quelli della Mercedes che erano presenti con la loro vettura Hanno avuto utili indicazioni su come trovare il setup Rinunciando un po' di carico aerodinamico Ma potendo stabilizzare il comportamento della rossa Con minori variazioni di altezza Per cui è stato possibile deliberare sospensioni meno rigide Permettendo all'SF23 di aggredire i cordoli sull'isola di Notre Dame Già nel fondo introdotta a Barcellona Era emersa la strategia del cavallino di fare un passo indietro E certe soluzioni che avevano funzionato l'anno scorso Sarà interessante vedere quale sarà Intrapresi in Austria Allora, andiamo a vedere per qua Con Domenicali che avverte Imola e Monza Difficile, un futuro con due gare nella stessa nazione Ma ve l'avevo detto ragazzi Specie Imola è destinata purtroppo a scomparire dal mondiale Difficile, quasi impossibile Confermare due gare in un paese europeo Nello stesso anno a partire dal 2025 Ma ve l'ho detto Già sarà difficile tenere una gara per paese europeo Perché sappiamo l'Europa andrà sempre più verso una crisi Economica rispetto alle grandi nazioni Per confermare le proprie gare Quindi Domenicali dice Considerando la crescita del business negli ultimi tre anni Le tante richieste di ingresso che stanno pervenendo sul tavolo Potrebbe varare un principio di alternanza Con gli slot in Europa che verrebbero cambiati di stagione in stagione Pensa un po' tu Cioè praticamente ci troveremo con delle gare Tip Nann si fa Silverstone, Nann si fa Spa Pensa un po' tu Diventerà un calendario dove si andrà a correre Solo in piste e luoghi inutili Una condizione che garantirebbe varietà e nuove possibilità La Francia avrebbe già dato il proprio ok a questo nuovo sistema Ma che di fatto priverebbe l'Italia del doppio gran premio Imola e Monza Cadrebbero in questo gioco E presumibilmente non permetterebbe alla Spagna Di affiancare Madrid a Barcellona Ma è ovvio che sia così Perché o si fanno 50 gare all'anno Oggi abbiamo un calendario mondiale Meno incentrato sul vecchio continente Sbagliato dico io Affermato il presidente delegato di Formula 1 Allo stesso modo per il futuro sarà difficile Avere due eventi in un paese europeo nello stesso anno Mi aspetto un sistema diverso basato su un principio di rotazione Posso già dire che avere Barcellona e Madrid in calendario Contemporaneamente non sarà possibile Abbiamo avuto due gare spagnole fino al 2012 Ma all'epoca il business non era così grande Ora la situazione è molto diversa Non so ancora quali saranno sottoposte alla rotazione Ci sono già colloqui con alcuni circuiti E questo è un aspetto che nei prossimi due anni chiariremo formalmente Sì ma vince Monza ragazzi E per i soldi E per il fatto che nessuno vuole vedere Imola al posto di Monza Che è la pista storica Ferrari Binotto può rientrare nel Circus Andiamo a vedere le due possibili destinazioni Binotto, ex in principal Ferrari Potrebbe fare un ritorno inaspettato in Formula 1 Nonostante i suoi errori passati Binotto è ancora molto richiesto nel settore Con diverse squadre che stanno Cercando di assicurarsi i suoi servizi Sì vabbò errori L'errore di Binotto è stato quello di diventare Team Principal Quando non aveva assolutamente le qualità per farlo McLaren ha recentemente preso Andrea Seedle Che si è trasferito in Audi Ah perso scusate Si è trasferito in Audi lasciando un vuoto nel team Il posto di Seedle è stato preso Andrea Stello Un altro italiano Stello ha già iniziato a rafforzare la squadra Portando a bordo Sanchez Alla Ferrari Marshall dalla Red Bull Ora sembra che McLaren stia considerando di aggiungere Binotto al team Sì ma Binotto accetta un ruolo Che non è quello di Team Principal Non è ancora chiaro quale ruolo avrebbe Binotto in McLaren È probabile che non sostituirebbe Stella come Team Principal Piuttosto potrebbe unirsi al team in un altro ruolo Contribuendo con la sua esperienza e le sue competenze Questa notizia è stata resa nota per la prima volta Il giornalista Ah boh Ginefrega no cazzi Però secondo me non sarà Binotto non accetterà un ridimensionamento del suo ruolo Siamo chiari Budget Cup Così è inutile E lavata alle palle Così è inutile Williams e Alfa Romeo chiedono una modifica Ma è inutile in tutti i modi il Budget Cup Io ve lo dico È una delle cose più inutili che hanno inventato Il Budget Cup introdotto per la prima volta Il due è vabbò Wolves ha sottolineato l'importanza di introdurre ulteriori novità Per accelerare il recupero sulla concorrenza Le cifre necessarie per recuperare il livello di investimenti Non si aggirano intorno a 10-20 milioni Bensì si parla di centinaia di milioni Allocati in quelle infrastrutture rette nel corso degli anni Ha spiegato Sottolineando la necessità di avere infrastrutture all'altezza Chiaramente se a Williams che Alfa Romeo Dicono noi dobbiamo investire nelle infrastrutture Per poter recuperare su Non dico Ferrari Lasciamo perdere Su Red Bull Mercedes Che a livello di galleria del vento Di proprio fabbrica In sé Stanno su un altro pianeta Williams non è l'unica squadra che sta spingendo Per modifica al regolamento Anche la Sauber Oggi è noto come Alfa Romeo Che dal 2026 diventerà Audi Ha espresso la stessa richiesta Team Principal All'Unibre ha sottolineato L'importanza di porre fine alla differenza strutturale Quindi cosa chiedono Williams e Alfa Romeo? Sostanzialmente di poter spendere di più E aggirare il budget cap Per lo meno per investire e migliorare le strutture Ecco qua Hamilton Verstappen può scurare i miei record I record sono lì per essere battuti E una squadra E ha una squadra incredibile Ha messo il 7 volte campionato Sì ma tutti i record decadranno ragazzi Se si continua ad andare verso una Formula 1 Con sempre più gare Sempre più eventi Fra dieci anni Basta che vinci Tre mondiali E c'è più vittorie di Schumacher Hamilton E cazzi vari Perché se fai i mondiali Da 25 30 35 gare E' chiaro che ti basta correre Tre anni per fare l'equivalente Di uno che Negli anni 90 Correva 4 anni Cioè No 4 anni Allora Erano 16 gare l'anno Se fai 30 gare l'anno Già corri il doppio In dieci anni hai corso Come quanto uno avrebbe corso in vent'anni E nessuno correva vent'anni Hamilton ha dubbi Verstappen può mettere la freccia E riscrivere la storia della Formula 1 Superandi i record Che al momento vedono protagonisti Sette volte campioni del mondo Alfiere della Mercedes Che non Che con la scudria della stella Ha dominato la scena Ritiene che l'olandese E la Red Bull Abbia tutte le carte In regola per poter azzannare Diversi campionati Max ha svolto Un lavoro incredibile Finora una carriera Così eccezionale Che sicuramente supererà I numeri di Senna Eh grazie a Luca Già l'ha superato I numeri di Senna Lo mondiale li vince tre Le vittorie L'ha appaiate Ha dichiarato Hamilton Una carriera molto lunga Davanti a sé Quindi assolutamente Verstappen può scurare i miei record In definitiva I record sono lì Per essere battuti È una squadra incredibile Ma come ho detto Dobbiamo lavorare di più Per cercare di allungarli Spero si possa fare Qualche battaglia È più ravvicinata Almeno nell'ultima parte Della mia carriera Sì ma Non c'ha senso Non c'ha senso Perché purtroppo Fin quando incentivano i domini In un'epoca Dove le gare sono molto di più Si batte i record Ferrari Grandi novità Sugli aggiornamenti Si va all in Con tre obiettivi Andiamo a vedere quali sono Gli aggiornamenti della Ferrari Che inizialmente Erano previsti Per la seconda metà di stagione Saranno ora accelerati Questo cambio di strategia È stato motivato Da una performance migliore Del previsto in Canada Vasser Ha dichiarato Che gli aggiornamenti Arriveranno Prima del previsto L'obiettivo Utilizzare tutto il budget Per lo sviluppo Il più presto possibile Per poter presentare Gli aggiornamenti in anticipo E superare più rapidamente Gli atti top team Cosa che non accadrà Ve lo dico già io Cambio di strategia La Ferrari Sta cambiando la strategia Di sviluppo Andiamo a vedere Risposta ai segnali positivi Performance in Canada Performance la Ferrari In Canada Ha superato le aspettative Soprattutto in termini Di gestione di quelli pneumatici Questo ha motivato il team A rivedere i suoi piani Sì sì ma Vediamo quando iniziano ad arrivare Le piste calde Se la gestione in Canada Sia stata dovuta Alla macchina che è migliorato O alla pista E alla temperatura Obiettivo Del campionato del mondo Nonostante inizio Stagione difficile Ferrari ritiene Che il secondo posto Sia ancora possibile Per raggiungere il team Sa che deve fare un salto di qualità E non lo farà Parola mia Scontro duro Dal nostro Il muttone Marconi Non ci sta la sigla Perché non c'ho voglia C'è domenica E Toto Wolf Che si scontra ormai Con chiunque Su Mick Schumacher Allora Helmut Marco Figura di Ma boh Marco ha confermato Che Wolf Ha tentato di avviare Una conversazione Con Oliver Minchiaff Nuovo capo Del gruppo Red Bull Per trovare Una sistemazione Per Schumacher Tuttavia Marco Ha sottolineato Che Wolf Nel frattempo Stava giocando Politicamente Con la FIA Contro Red Bull Un comportamento Che ha messo Fino alla discussione Marco si è chiesto Perché Red Bull Dovrebbe preoccuparsi Schumacher Che è un pilota Mercedes Ha suggerito Che Wolf Se ha tanta stima Di Schumacher Dovrebbe permettere Di guidare il suo team O utilizzare La sua influenza Per farle entrare Un team cliente Come la Williams Cosa che abbiamo Presupposto tutti Che sarebbe andato In Williams Schumacher Ha recentemente Affermato di essere pronto Per un posto In Formula 1 E che presto Ci saranno Novità in merito Sarà interessante Vedere come Si svilupperà La situazione Nel frattempo Schumacher Parteciperà A Goodwood Allora Il discorso Qual è Schumacher Perché diventa Appetibile Per i team Non solo perché Non per le dote In pista Che come abbiamo visto Sono molto discutibili Però C'è anche da dire Che Schumacher Ti porta un'attenzione Mediatica Che nessun Pilota In Formula 1 Oggi Probabilmente Ti porterà Ecco perché Uno potrebbe essere Invogliato A prendere Schumacher E' chiaro che Se vai in Williams Con una Williams Così scarsa Che sviluppi Può avere La tua carriera Si Magari Se sei veramente Fortunato Fai come Albon Ti rilanci Ma Secondo me Schumacher Era un po' più In crisi di Albon E Audi Ha ufficializzato Il primo pilota Della Formula 1 Fin da subito Al simulatore E vi Garantisco Che non è Arturo Passoduro Audi Annunciato L'estate scopo Buona Sembra solito Puttana A me Queste Mi da Fassi Queste prefazioni Che ci ripetono Sempre le stesse cose Di quelle Che Sapiamo tutti quanti Che Audi Gianni 39 anni E' un ex pilota Tester Risale Formula Per la Red Bull Ha guidato in GP2 Formula Elevante Che ha vinto Nel 2016 Composto Entusiasta Di accompagnare Audi Nel loro cammino In Formula 1 Dichiarato Gianni E' un onore Una grande responsabilità Essere coinvolti In un progetto Di questa portata In una fase Così precoce Audi prevede Di testare La sua prima unità Di potenza Completa Entro la fine Di quest'anno Proprio come Nello sviluppo Della produzione La simulazione Svolge un ruolo Importante Nel nostro progetto Di Formula 1 Hoffman Membro del consiglio Dell'Audi Quindi ha scelto Nel Gianni Ex pilota Di qualsiasi cosa Tranne che Di Formula 1 Per iniziare A lavorare Al simulatore Quindi vedete Come si sta avvicinando A grandi linee Audi Alla Formula 1 Ultima notizia Ferrari Pagli acquisti La colpa è dell'Italia Secondo Vassar Ma certo Ma certo Ragazzi Perché Chi vuole venire In Italia Paese schifoso Clima di merda Si mangia male Si vive male Chi ci vuole venire Magli stare in Inghilterra Dove piove 377 giorni Su 365 Dove il mangiare Fa cagare Molto meglio stare In Germania Peggio ancora Molto meglio stare là No in Italia Che cazzo Stiamo a fa Fa schifo l'Italia Giustamente È difficile portare Uno in Italia Perché tu chiedi Alle persone sbagliate Una capra Canata Pasciuta Mortini Se mori in Inghilterra Lasciali in Inghilterra Vassar ha rivelato Che nonostante i suoi sforzi Quello che vi ho sempre detto io Non è il problema Dell'Italia Il problema è che Nessuno vuole venire In Ferrari Perché la pressione Che è applicata Nel lavorare in Ferrari È enorme E non ti puoi permettere Di sbagliare Perché ti cacciano A calci in culo Quindi Non è facile Convincere L'ingegneri Alte sconere Unissimo Ferrari Ha ragione La maggior parte Dei team Di formano Una sede in Inghilterra Per un ingegnere Che vive Il passare A un team all'alto Significa mantenere La stessa routine Senza dover sconvolgere La vita familiare Sì ma perché Negli anni 90 Ci venivano gli ingegneri Tipo Rory Barn E Ross Brown Eh non lo so Italia Un ostacolo Un'opportunità Sebbene l'Italia Possa rappresentare Una barriera Iniziale Per il reclutamento Passare sostiene Una volta superato Questo ostacolo Il paese offre Un'alta qualità di vita Che rende difficile Per gli ingegneri Voler andarsene Insomma bisogna Prima muoversi Poi abituarsi Infine non si va più via Ma è normale Ragazzi è normale Cioè quando vengono I turisti in Italia Gli inglesi Si imbazziscono Io ho lavorato Nelle basi nato-americane E trattavo con inglesi E statunitensi Ragazzi Noi vendevamo la roba Che qua tu Al supermercato Te la buttano dietro Non la vuole L'italiano La vendevamo a cifre spropositate Una bottiglia di vino Galasso Che qua costa 2 euro Noi la vendevamo A 20-25 dollari E se lo compravano Pensa un po' tu Nonostante le sfide Vassa il resto Ti va boh Ma va a essere Sempre ottimisti Lo stipendi Le piru stesse Sul futuro Arriverete Stai pianificando L'arrivo di un nome Da top team Anche se non ha voluto Rivelare chi si tratti Inoltre ha sottolineato Il processo di cambiamento A lungo E lungo E chi richiede tempo Per valutare ogni area Sì sì Ma tanto nel tempo Ce l'abbiamo Sono solo 17 anni Che non vinciamo nulla Possiamo aspettare Alte 10-15 anni Raga Buona domenica Ci vediamo dopo Ciao voglio Ci vediamo con La live Della MotoGP